Premessa, in genere non faccio quasi mai questa tipologia di video, se non erro è la prima volta praticamente un video risposta ad un vostro commento, ma fatevi salutare e benvenuti a tutti in questo nuovo video dal vostro Enrico Caffarelli, se non vi siete iscritti al canale vi invito a farlo tutto gratis attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, link in descrizione con qualcuno di voi ho già instaurato un rapporto seppur virtuale, ci mandiamo dei messaggi in chat e questo mi fa molto piacere, allora veniamo insomma al video, praticamente non credo che sia un follower non lo so, un iscritto, una persona anche secondo me molto intelligente che saluto se sta guardando questo video nulla di personale per carità, non te la prendere, però ci tenevo a risponderti con un video perché mi hai un po' toccato di dentro, nel mio animo, niente di che ovviamente, niente parolacce, niente accuse solo risposta, video risposta e il tuo video, praticamente ho nascosto anche il tuo nome perché per la privacy è giusto che nessuno sappia come ti chiami mi hai citato queste parole Enrico, scusami se insisto, hai pubblicato il video pochi minuti fa hai avuto tutto il tempo per ascoltare Spalletti poi citi sempre le fonti come mai non l'hai fatto in questo momento? anche il tuo titolo civetta titolo civetta da adito a psicopost poco gradevoli allora il mio titolo civetta era a Voltoj in azione toto allenatore per il Napoli intendevo dire tanti youtuber, tanti giornalisti tanti opinionisti adesso come se fossero a Voltoj diranno il proprio nome allora io so chi è l'allenatore del Napoli chi verrà al posto di Spalletti perché abbiamo capito tutti che Spalletti non sarà il prossimo allenatore dell'anno 2023-2024 del Napoli lo ha detto praticamente lui anche se non è ufficiale ha riferito in pubblico che vuole mettersi gli stivali infatti io ho risposto anche a questo signore che vuole mettersi gli stivali intendendo che vuole prendersi un anno sabbatico andare a fare il campagnolo non lo so a una tenuta di cavalli a fare quello che non ha fatto in questi anni vuole la libertà e molto probabilmente De Laurentiis gliela concederà annullando l'anno di contratto che gli rimane e questo titolo insomma andava a specificare quello che io pensavo in quel momento toto allenatori toto allenatori chi si sveglia la mattina dice io lo so qual è l'allenatore io pure eccolo la telefonata di De Laurentiis ha detto questo ha detto sì questo ha detto no e vedrete che sarà così fino a che non verrà ufficializzato dal Napoli Napoli dalla società sportiva Napoli soltanto quello sarà sicuro come ha fatto la Roma con Mourinho che non l'aveva detto a nessuno un giorno se n'è uscita e ha detto questo è il nuovo allenatore della Roma tutti ma davvero Mourinho nessuno sapeva niente infatti sono rimasti tutti a bocca aperta ma comunque volevo argomentare perché proprio lui me lo chiede questo signore che mi ha risposto in questa maniera educatamente però psicopost poco gradevoli psicopost è qualcosa di psicologico poco gradevole io non ne ho visti tutti questi psicopost come dice lui comunque vediamo vediamo per quale motivo io ho detto queste cose e anche chi diciamo sottolinea questa questo argomento questa mia supposizione e questa volta cito la fonte non so se se mi denunceranno non so perché io youtube non è che lo conosco poi così bene però voglio fare quello che mi ha detto lui speriamo che non mi devo mettere non mi devo prendere un avvocato anche perché io non ho neanche i soldi per prendermi un avvocato anzi mi farete una colletta voi per prenderlo se mi citerà questo sito web che io andrò adesso a nominare e parliamo di calcio napoli 24 lo ripeto calcio napoli 24 ho citato la fonte questa volta e dice le stesse testuali parole di Enrico Caffarelli a distanza di 3-4 giorni perché l'articolo è di oggi del 23 maggio ore 10 e 30 2023 e dice così caos organizzato e la lotteria del nome giusto non si sta esagerando sull'eventuale post Spalletti le stesse identiche frasi che io ho detto nel mio video e praticamente a Bortoi era riferito alle persone che stanno causando questo caos e dice ancora il sito in attesa di capire come si evolverà la situazione Spalletti possiamo dire con tranquillità che stiamo assistendo al solito copione e c'è ancora chi si sorprende quando non conoscesse quasi non conoscesse il passato da settimane si va avanti a interpretazioni gossip indiscrezioni e quanto altro sul futuro tecnico del club campione d'Italia quest'ultimo dettaglio lo evidenziamo con forza perché se accendi la tv radio oppure apri i giornali sembra che Napoli lo scudetto lo abbia perso anziché vinto dopo 33 anni e io vi faccio anche l'applauso a chi ha scritto questo articolo e adesso udite udite non me ne andate proprio adesso non uscite dal video e allora giù la lista di nomi che Laurenti De Laurentiis avrebbe contattato e venite al mio video e venite al mio video vedi mio caro amico che mi hai commentato queste cose io non mi sbagliavo perché anche i professionisti la pensano come me e veniamo con i nomi allora avrebbe contattato Conte Gasperini Tiago Motta Italiano Nagelsmann Luis Enrique Klopp Benitez Gagliardo che non come dicono i romanisti è Gagliardo se scrive Gallardo Con Seisao ci fermiamo qui per carità di patria anche se ne usciranno altri vi faccio ancora l'applauso perché è quello che dicevo io per quale motivo te la sei presa sul personale mio caro amico Psicopost articolo Civetta ma qual'articolo Civetta è un articolo vero e proprio perché adesso ci sarà questo toto allenatori che andrà all'infinito all'infinito avete mai visto un mio video dove vi dico questo è l'allenatore questo sarà l'allenatore del Napoli no perché io se non lo so lo dico non lo dico o magari dico affermo nel mio video ragazzi che ne so tutto sport il messaggero ha adesso appena detto che il prossimo allenatore del Napoli sarà che ne so Gasperini ma ci metto il punto interrogativo perché io non sono nessuno per poter dire una roba del genere magari lo sapessi magari io faccio i video dentro una stanza io non sono proprio sono piccolo piccolo così e spero di crescere anche dal vostro aiuto ma da qui a dire che io ho fatto un articolo un titolo Civetta che dà adito a Psicopost lasciamelo dire hai esagerato però non me la sono presa assolutamente ti sto rispondendo anche perché mi hai scritto devi argomentare sei stato enigmatico se non erro adesso te l'ho argomentato alla grande spero che ti sentirei fiero e spero che non te la sei presa per carità però ci tenevo a farlo proprio perché le mie parole sono state confermate da questo sito che ripeto è calcio Napoli 24 non mi non mi denunciare per favore perché io non ho niente vabbè lasciamo perdere non so sono nulla tenente quindi con me c'hai pure poco da prendere insomma e ho giusto una macchina un po' trasandata che se vuoi te la regalo poi ragazzi finiamo questo video e poi vi lascio un po' come accadde con Gattuso dopo quel Verona Napoli dove vennero fuori delle robe piuttosto forti fatte trapelare da via 24 maggio per lanciare un messaggio è il classico gioco delle parti ci mancherebbe perciò ragazzi quello che ho scritto io quel titolo civetta che dice il nostro amico che spero sia un iscritto che sia un follower anzi da adesso in poi dato che ti ho dedicato questo video dammi dammi il tuo click spigni il tastino iscriviti eh penso che me lo sono meritato ti ho risposto in un video però ragazzi adesso penso che sarà l'unica l'unica volta che io farò una cosa del genere perché ho tanto da dire sul calcio sulla Roma sul Napoli sulla Juve sul tutta la Inter Milan la Lazio l'ho detto già la Lazio su tutto io amo il calcio a tutto tondo come avete ben capito dai miei video perciò non ve la prendete se qualche volta magari le nostre idee non sono uguali perché ovviamente ognuno ha il suo cervello per ragionare e vi dico che quando parlo sto sempre in buona fede questo si lasciatemelo dire perché sono abbastanza maturo per non dire bugie perché poi hanno le gambe corte come si dice si dice così no lasciate un like a questo video per supportarlo un bel mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina e seguitemi su Instagram alla prossima ciao